Pochi giorni a Natale, le città brillano di luci e gli addobbi sono la caratteristica che rendono unica l'emozione di un momento dell'anno che riesce a scuotere i cuori anche più rigidi. Per la maggior parte delle persone sono in corso gli ultimi preparativi, regali, pranzi e cenoni tra tradizione e tendenze. Anche per il Natale 2023 l'albero nelle famiglie italiane rimane al primo posto nelle decorazioni, ma c'è anche una grande attenzione verso gli addobbi di luce. Anche le decorazioni per l'albero di Natale seguono le mode, ma tra le tendenze modaiole c'è anche chi sceglie la strada del vintage, ovvero aprire i vecchi scatoloni che si trovano in soffitta alla ricerca di palle e pupazzetti che riportano indietro nel tempo.